Buonasera, grazie a tutti di essere venuti, Simona, stragrazie, sì sulla fiducia, stragrazie, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, i nuovi luoghi dell'abitare. Clicco, grazie, presentarsi. Allora, come? Non è mica facile, nel senso che io volevo presentare i miei lavori, ma dato i luoghi nuovi dell'abitare, abbiamo scelto, sempre io, pluralis maestratis, abbiamo scelto piccole opere, piccole opere svincolate da tutta la montagna di cose che è stato fatto all'interno dello studio. Eccoci qua. Allora, ogni interno che cos'è? Ogni interno è come una barca solitaria tra vento e mare. Il mare non è mai banale, perché è il magma della progettazione. La progettazione può veramente spaziare sopra, sotto, dip e anche essere mosso. Anche il vento che gonfia le vele non è da sottovalutare perché è il portato del cliente. E per quel che mi riguarda, specialmente nei piccoli appartamenti, il portato del cliente ha un enorme significato, perché se l'appartamento è piccolo, il portato sarà grande. generalmente, quindi non è che lo puoi sparpagliare in 200, 300, 400, 500 metri quadri, ma devi tutto compattare e mantenere comunque lo spazio per il cliente e lo spazio anche della progettazione. Ogni interno che vuole raggiungere terra ha un capitano, al timone il capitano che si destreggia non è l'architetto, ma è l'architettare. L'architettare che è qualcosa di più ampio rispetto ad essere architetti, perché coinvolge, per l'appunto, 50 forniture diverse, piuttosto che imprese, impiantistiche, eccetera, eccetera. Andiamo avanti. Qui è un moto ondoso dell'architettare attraverso i secoli. I nuovi luoghi dell'abitare, per l'appunto, partono dal vecchio. Abbiamo una sommatoria di edifici che si costruisce in cinque secoli, mi sembra. Poi dopo cambiano le correnti, quindi qualcosa affonda, qualcosa torna a galla, però il risultato di questa sommatoria attraverso i secoli è questo. Questa immagine che io ho costruito, l'ho costruita perché dico, ma chissà mai che ci sia qualcuno dei nostri amministratori, piuttosto che qualche sviluppatore. Cioè, teniamo presente, prima di abbattere con tanta facilità, che forse lavorare per sommatori potrebbe essere un nuovo modo di riflettere e di pensare quello che io ogni tanto preferisco dire contro sviluppi urbani, invece che sviluppi urbani che potrebbero essere presi in considerazione in modo diverso. Opa là, vado un po' veloce, aspettate il respiro. Cosa c'è? Ok, per piccina che tu sia. Non la sto a recitare, la conoscete, no? Piccina, badia, ridente, nitida, non te manca niente. Andiamo avanti. Gli interni che presento sono tutti entro i 70 metri quadri, alcuni realizzati anche in più tempi. Io faccio un po' una carellata. Che spazia, non perché siano tanti i progetti, ma perché ci sono dei buchi di progetti enormi che non ho messo dentro, quindi partiamo dagli anni 90, partiamo, summa, partiamo, finiamo, troviamo. Allora, questo è Giotto a Milano. Il cliente, fiorentino, comunque con una vita legata a Firenze, quindi questo per me era il portato iniziale, questo è stato il mio concept. ho accettato questo lavoro, recalcitrando, ma l'ho accettato perché io volevo fare una sperimentazione, che era una sperimentazione legata ai soffitti. L'appartamento è molto piccolo, ma era alto, quindi mi dava modo di poter fare i miei sperimenti. Non sono certo minimale, non sono minimale non perché non lo voglio essere, ma perché non mi viene. Che te dodi? Proprio zero. Allora, cos'è che dice? Quando dono blove di casa, quando ho il cielo in una stanza, nel senso che, vabbè, è tutta pensata per essere, è una casa abitata da una persona sola, non ha altri parenti, quindi la casa è tutta sua, le porte non hanno necessità di esserci, se non per un'intimità o il tepore, proprio problemi di riscaldamento, quindi c'è un traversamento di varchi e di possibilità... Ciao Serena! Di possibilità di vedere il proprio vuoto, cioè la propria composizione, perché tu hai portato dentro questa casa tutte le tue cose, quindi da qui praticamente arrivi a vedere fino in fondo di là. Ecco, questo è l'oblò, questo è l'ingressino, è una L, ha problemi di luce, eccetera, eccetera, ma non sto neanche a raccontarli, e non doveva mancare niente, naturalmente. Questa è la tavolozza in real, carta, colore, legno, io lavoro moltissimo con le MDF laccato, questo è l'ingresso, campo e contro campo, generalmente cerco di tagliare fuori la porta condominiale, che è una roba che mi fa come un risucchio, se devo lavorare in un interno, c'è il passo davanti alla porta condominiale, vengo presa e risucchiata sulla tromba delle scale. No, grazie, preferisco rimanere in casa mia. Allora, tricchete, la chiudo, potendolo fare e avendo anche, come dire, l'approvazione del cliente. Vado, trasparenze, cioè, ragazzi, non sto a raccontarla perché è veramente complicata, però si capisce, è complicata ed è piccolina, piccolina, succede tanta roba, e questa è una bellissima foto fatta da Angelo che ha ricomposto i plafoni, passiamo, no, no, è piccolina, ma sono gli effetti delle ottiche, no, no, non è profonda, questi qui sono due divanetti, no, è piccola. Ah, ecco, poi dopo, vabbè, mi sono interrotta, ops, andiamo avanti. Quinta è in Castelfidardo, questa invece, ah no, questo quello che volevo dire è un'altra cosa, io rispetto al, invece il mio rapporto col cliente, è completamente diverso. Allora, io mi pongo davanti al cliente e gli dico, bene, ci vogliamo bene, non ci vogliamo bene, ci capiamo, non ci capiamo, cerchiamo di capirci sicuramente, perché se mi scelgono dobbiamo capirci. Io non mi occupo di sanitari, io non prendo le tendie, io non mi occupo di rampadari, praticamente di niente. Io faccio, io faccio il taglio, i colori, le luci fisse, le finiture, e poi dopo, all'interno di questa cosa, che è già abbastanza, perché mi rendo conto di avere un imprinting, non così soft, all'interno di questa cosa qui, il tuo spazio, io sono disponibile a qualsiasi consulenza, eccetera, eccetera, ecco, il rapporto che ho avuto con questa cliente, per esempio, ha fatto sì che io, dopo quel giotto a Milano, quei tre tavole che ho dato all'inizio, poi è stata lei, perché io neanche mi occupo di andare a cercare la carta parati, quindi, quindi, è stata lei che è andata, le ha visionate, ha fatto la presselezione, e ticket, e poi io, certo, certo, e poi io scelgo, e poi io arrivo lì e dico, ma sarebbe meglio questa piuttosto che quest'altra, però, no, no, ma è fantastica, scusate, io non voglio, cioè, è una casa per il cliente, ripeto, non ho la manina leggera del minimale, poi lo spazio enorme dove puoi spalmare tutto quello che vuoi, quindi il mio rispetto, si traduce in qualche cosa che poi dopo mi aiuta, nel senso che non scelgo le carte da parati. Vabbè, poi naturalmente anche qua gli spazi piccoli, quindi l'armadio, da una parte è un armadio, da un'altra parte è sgabuzzino, insomma, tutte le solite cose che conosciamo benissimo, poi questo, quando certi particolari li vedi solo tu, nel senso che dici, voglio avere quella robetta lì, non l'abbiamo fatta, è venuto a metà, va bene lo stesso, perché tanto il cliente manco se ne accogge, detta francamente, il cliente, comunque, il cliente in questo caso era pieno ricorgitante di cose, pieno, aveva, perché arrivava da un appartamento enorme, tutta roba bella, e l'abbiamo riempita, devo dire, alla fine è una casa piccola, ma molto gradevole, la cucina è proprio un piccolo tunnel, che non è divisa, non ha, insomma, da una parte aperta, scorrevole, eccetera, eccetera, vabbè, comunque, andiamo in quest'altra casa, qui siamo nel 2009, l'unica cosa, diciamo, importante, sulla quale riflette questa casa, è che io dovevo mettere una cucina, ma non avrebbe avuto la finestra, perché se no non distribuivo, non distribuivo la casa, quindi la cucina è in uno spazio chiuso, a cavallo, in asse, con le finestre, allora, anche in questo caso, per esempio, io la decorazione non l'ho fatta, io ho immaginato, ho disegnato questa pianta di questo ingresso, così, che divide l'ingresso dalla cucina, ho disegnato le lesene, le cose, perché sapevo che poi sarebbe stata decorata, ma la decorazione è stata una scelta del cliente, per me è stata una bellissima sorpresa, quando l'ho vista, perché a quel punto lì, non l'ho, non so come dire, libera, liberi tutti, tanto io so che l'impianto è già buono, non mi spaventa, non so come dire, poi delle volte sbaglio, sbaglio, sì, e dico, porca miseria, avrei dovuto dire qual era la tendina, però, è un malo, no, è molto malo, vabbè, quindi, questa, c'è questo ingressino, completamente decorato, sono tutti armadi, apri, chiudi, sotto le scarpe, cose, naturalmente, gioco sempre con le trasparenze, cerco sempre di portare la luce, anche dove la luce, non può arrivare, quindi apro, vabbè, poi un'altra cosa, queste foto, sono state fatte con le case ormai, abitate da vent'anni, perché, io ho mai fatto una foto di una casa, quindi, quando Simone mi ha detto, eh, allora corri, vai a fare le foto, un lavoraccio, e, quindi si vede quel che si vede, poi non sono neanche andata col fotografo, cioè, vabbè, comunque, sì, sì, sono abitate, sono abitate, qui siamo in quei casi che capitano spesso, cioè, quando giochi su una sezione per tirare fuori spazio, e qui c'era bisogno di un soppalco, cioè, di uno studio, eccetera, eccetera, quindi, così fu fatto. Questa è una torretta, cioè, è una casa minuscola, sono 30 metri quadri sotto, 30 metri quadri sotto, però compreso la scaletta, e compreso un terrazzo, è una roba pazzesca, quando io ho, aspetta, ha cambiato cliente anche in corso d'opera, che però è andato avanti con lo stesso architetto, ha portato avanti con lo stesso progetto, la, quando io disegnai il vano scala, le imprese dicevano, ma non ci sta, e invece no, perché, se io disegnavo il vano scala, prima ho già fatto il progetto, come tutti noi, Vabbè, ok, in questa, questo vano scala, è la torretta, che da terra sale, continua a salire, diventa, libreria, sotto scala all'inizio, armadio, stiva, e tutto si ruota intorno a questa torrettina, sempre, il solito legno, laccato, eccetera, eccetera, è una casina, devo dire, deliziosetta, perché, da quanto è piccola, non manca niente, naturalmente, le arredi non le faccio io, eccetera, eccetera, siamo sempre lì, non sto a ripetere, ah sì? Ok, appenderie, va bene, questo sempre, ecco, questa è la mia tipica, quando io devo tagliare i terrazzi, poi le fioriere, non le metto lì, mi dà fastidio, allora faccio sempre questa apparecchiatura qui, che è sempre la stessa, che esce fuori, allora, invece questa, cominciare dall'albero, questa casa qui, è divertentissima, nel senso, è stata fatta in tre fasi, perché, nel corso degli anni, compravano un altro pezzettino, le fasi sono, questo, il primo blocco, e siamo qua, questa, e quest'altro, è su, è su due, ultimo piano, e sottotetto, tagliato via, una gran parte sottotetto, per fare il doppio volume, dove, si poteva, allora, cominciare dall'albero, Allora, andai a trovare della gente, che aveva, un intarsio, di questo colore, un pezzettino grande, come un'unghia, a Milano, in una casa privata, allora dico, ma questo, questo, che cos'è? Allora, aspetta, chiama il, chi aveva fatto il lavoro, dice, è amaranto, allora comincio a cercare l'amaranto, siamo nel, no, prima, perché siamo nel 90, cerco l'amaranto, l'amaranto non si trova, insomma, compro, un pezzo di bosco, calcolo, calcolo, sì, in Brasile, calcolo, la quantità, lo sfrido, il taglio, la perdita di peso per l'essiccazione, vado a guardare i miei pulcini che crescono, che piano piano si seccano, non lo farò mai più, però è stata un'esperienza straordinaria, e questo legno qui è pazzesco, non si rovina, naturale, naturalissimo, si chiama amaranto, poi a un certo punto avevano smesso di farlo utilizzare, perché è molto duro, quindi produce delle polvere, adesso, da quello che ho capito, si trova, sarà vero amaranto, adesso sarà finito amaranto, io non lo so, perché tanto si capisce più niente, anyway, a cominciare dall'albero, queste foto sono ancora, sì, si vede, e me la mandate lui, il mio cliente, allora, questa l'ho fatta, è una foto che si ripete, ma per dire che non ci si ferma davanti a niente, in questo caso, il lampadario, di Murano, importante, di famiglia, eccetera, eccetera, non ci stava, tac, buco, sì, vedi, e va su, perché sopra siamo, in un, vabbè, in uno spazzetto, che potevo utilizzare, quindi, piuttosto che buttare, bisogna cercare di, far funzionare le cose, poi certo, se si trova davanti, vabbè, ecco, e poi un'altra cosa, io ho sempre avuto clienti pieni di cose, lui, è un collezionista, di qualsiasi cosa, sculture africane, ceramiche, quindi, una quantità, una quantità di oggetti, da piazzare, poi, vabbè, ripeto, anche questo, state fatte, che la casa, nel frattempo, hanno, l'hanno ridivisa, l'hanno affittata, ci va per trappettare una figlia, quindi, qui c'è un casino, che io, faccio fatica, come dire, a riconoscere, però, ho deciso di presentarvela, ugualmente, questo cammino, vediamo se tu lo riconosci, quando venne Luca, a vedere questa casa, che dici, ma io, non farei mai, potrei fare qualche cosa, dico, fammi il cammino, vai, e allora, il cammino è di Luca, e dico, eh, no, no, è vero, è vero, in pietra, sì, no, finto, non c'è niente, allora, a me non è mai successo, di dover dire, andiamo a cercare una lampada, nel senso che, il portato del cliente, oltre alla propria cultura, faceva sì che arrivassero pure tutte le lampade, piuttosto, piuttosto, io, se dovevo avere delle luci, d'ambiente, quelle sì, quelle progettavo io, insomma, integrate, eh, quello sì, ma se no, no, ok, andiamo avanti, ticket e tacche, bucchette, ecco, quando lo spazio è sacro, questo sempre, siamo nella stessa casetta, in una camera da letto, questo tanto per dire, non butti via niente, bisogna sfruttare tutto, eccetera, eccetera, ecco, questo per esempio, è un'altra cosa dell'assumatoria, che il portato del cliente, loro andarono a abitare in questa casa, che era un ultimo piano, la moglie soffriva di ansia, perché c'era questo terrazzo gigantesco, che dava su altri tetti, insomma, quando tornai, trovai queste inferiate, che aveva disegnato il cliente, fatto fare dal fabbro, che aveva già lavorato con noi, e dico, è viva, vedi, perché alla fine, poi dopo tutto funziona, ecco, questo è un omaggio ai fotografi, che vi dico, è stata difficilissima fotografare questi spazi, perché fai così, sbatti contro un muro, fai così, sbatti contro l'altro, vai di là, cadi dalla finestra, e quindi fine della faccenda, i due fotografi, e poi abbiamo i quando, allora, quando superfetti, senza superfettare, cioè quando non dividi con una parete, in muratura, ma usi, per l'appunto, una roba in legno, che fai, a grosso spessore, da una parte fai le nicchie, dall'altra parte fai, le librerie, quindi studio, dovevo dividere questo, grande locale, quando, non vuoi, o il cliente, non vuole buttare, quello che c'è, perché è questione economica, tutto quello che vuoi, interviene il colore, e con il colore, te la cavicchi, quando, per un bagno, devi architettare a mille, perché per esempio, questo, in lunghezza, se facevi la somma, della dimensione, della dimensione, degli spazi utili, lavandino, non ci stava, quindi, questo bagno è stato fatto tutto, con lastre, con lastre, in pietra, tre centimetri, tac, 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 per riuscire a portare tutto, e non avere, gli spessori, mentre quest'altro bagno, che aveva la finestra, che affacciava, su, un, su, un terrazzo, che poi loro chiusero, e divenne, una veranda, allora, volevano chiudere anche la finestra, e ho detto, no, ti prego, un po' di luce solare, e farla arrivare, quindi la finestra, io l'ho divisa in due, qui dalla parte del bagno, arriva la luce dall'alto, questo esterno, e questo interno, tanto per non perdere i pezzi, poi questo, quando Simona arriva in visita, e il suo cervello comincia, a elaborare chissà che cosa, e quando, quando affiorano, nel magma, nel mare profondo, della progettazione, affiorano anche creature bestiali, bestialissime, cosa sono? chi lo sa cosa sono, insomma, ha fatto staccare, alla fine, era talmente tante, che ci ha fatto un libro, che si chiama, Bestiario delle cose non dette, Atlante di zoologia, fantastica, a posto, grazie, stragrazie, arrivederci, grazie, 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 grazie,